Stefano Morale, Sindaco di Crema, l'importanza di un viaggio come questo? Ci sembra giusto innanzitutto ricordare il fatto che in quel disastro sono mancate tre persone, tre donne che stavano recando al lavoro. Questo è veramente drammatico, che si possa morire andando al lavoro su un mezzo pubblico. Poi è importante essere qui per condividere comunque una mattinata di viaggio con i pendolari su una linea vessatissima rispetto alla quale non sono stati registrati miglioramenti, una linea di servizi quasi quotidiani, con un materiale rotabile scadente, il treno di oggi non c'entra nulla con quelli che viaggiano su questa tratta ed è importante tenere alta l'attenzione di tutte le istituzioni rispetto alle condizioni di viaggio e anche rispetto ai temi della sicurezza perché c'è un giudizio in corso, quindi vedremo la conclusione delle indagini perché naturalmente vogliamo che si sappiano esattamente le responsabilità per quanto è accaduto un anno fa, però possiamo dire con certezza che c'è stato un tema, un problema di sicurezza. Allora i viaggiatori hanno diritto di sapere che viaggiano in condizioni sicure, quindi è importante esserci qui, essere come istituzioni, essere vicino ai viaggiatori che quotidianamente tenano su questa tratta con ritardi e disagi quotidiani. Grazie.